Questa cosa va specificata. Paolo Maldini e Richi Massara hanno il contratto fino al 2024. Capito? Questo va detto. Ma non so se andranno avanti. Temo di no. Ecco, questo volevo dirlo. Nascerebbero loro il loro contratto per divergenze. Questo non lo so a livello onestamente burocratico, tecnico. Però credo che non ci sia una grossa possibilità di poter andare avanti uniti con la stessa unione di intenti. Ecco, quindi penso che si possa quasi essere concluso, ragazzi. Che sensazioni, che pareri e che reazioni avete, Campbell? A me mi viene da dire... C'è questa cosa che te non... detta anche un po' così. Ma io lo so... rimango... Non so cosa dire perché... Però Bobo, quello che tu avevi detto, Bobo, e poi ti lascio la parola, quello che tu avevi detto, avevi ragione. Tutto quello che tu ci hai accennato a noi tre mesi fa, che dicevi Massara e Maldini, top. Il disastro stanno facendo quello che non vogliono mettere soldi. E tu avevi ragione già tre mesi fa, te lo dici. Se, se... Quello che voi sapete, perché io non so niente, non leggo niente, va via. Dico quello che penso io, è perché non metteranno un euro. E lui di... Non lo so, perché poi mi dovete dire bene voi. Cioè, lascia il cap? Lascia lui, lascia? No, questo non si sa... Allora, guarda, ragazzi... Sto leggendo un po' di robe. La cosa è quella... Allora... Sicuramente questo Cardinale... Per far andare via Maldini, dopo quello che ha fatto in questi anni, è da pazzia, no? È da pazzi. Ma noi pazzi nel calcio li vediamo tutti i giorni, perché due giorni fa è venuto sul palco a Napoli, Spalletti. Quindi, ci dobbiamo stupire, non mi stupisco di nessuno, ok? E nel calcio, in trent'anni, ho conosciuto i più falsi che ho mai conosciuto in vita mia. Perché così. Un secondo prima, ti dicono, tutto a posto, dà la mano, tu rimani qua. Ma è successo a me, o comunque ai miei compagni amici. E dopo dieci minuti, sayonara. Ma scusa, mi hai detto, tutto a posto, eh? Quindi, e posso dire nomi, 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 e stiamo qua per un'ora a dire nomi. Quindi, ti stupisci? No, non mi stupisco di niente del calcio. Perché il calcio è questo, è. Non vale niente, la parola non vale niente di niente. Vagano i contratti firmati. Quindi, se uno ha un contratto, deve prendere questo di là. Ma, se no, non vale niente di niente. Il lavoro non... Il lavoro non vale niente il lavoro. Quando noi, Camel, tu dici il lavoro... Il valore del lavoro. Il lavoro... Non vale un... Io parlo per... Ma non vale un cazzo. Perché se no, queste cose non possono succedere. O no? Non può succedere una roba del genere. Sì, perché si arriva veramente all'assurdo. E io so che comunque questo presidente che è arrivato ha fatto tutto... Sì, sono qua, faccio qui, compro qua. Ma anche i tifosi del Milan. Ho letto che Domenico hanno detto, vogliamo rinforzi. Ma giustamente perché Milan, come squadra, ieri erano 72 mila paganti, eh? O 72 mila persone allo stadio. L'ultimo di campionato. Quando comunque il Milan è già in Champions, no? Quindi, i tifosi del Milan ci sono tutte le partite. Da sempre. Una dirigenza, come vuol dire Massara, ragazzi, e Pioli, questi tre qua, hanno fatto un lavoro... Ragazzi, ma vincere lo scudetto l'anno scorso... Ma è una roba... Battere l'Inter, ma è stata una cosa incredibile perché l'Inter... Quest'anno si è visto la differenza, secondo me, eh? Tra Inter e Milan è questa che si è visto quest'anno. Nei derby. Questa è la differenza di... 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 Rosa dell'Inter e il Milan, no? L'anno scorso il Milan ha vinto lo scudetto. Quest'anno è andato in semifinale di Champions League. Semifinale. E giustamente Pioli dice... È giusto quello che ha detto. Purtroppo, sai, se non era contro l'Inter, uscivamo... Era una festa lo stesso, no? Quindi c'è più delusione perché è contro l'Inter. Ma è arrivato in semifinale di Champions League. Giocando solo con Giroud davanti. Non poteva nemmeno mettere uno a posto di Giroud perché non c'è mai stato nessuno. Cioè, sono arrivati in Champions League quest'anno. Con gli stessi giocatori dell'anno scorso. Anzi, di meno, perché è andato via che sì. Quindi, giocatori in meno. E sono riusciti... Il portiere quest'anno, Magnano, non ha giocato. Mi ha giocato due mesi. Ragazzi, e sono riusciti lo stesso ad andare in Champions League e in semifinale di... No, scusa. Sono arrivati in Champions League e in semifinale di Champions League sono arrivati quest'anno. Ma un lavoro che... Un presidente così a Maldini deve dire... Paolo, mi firmi per dieci anni. Cioè, poi mi firmi un contratto che rimane a vita qua. Ma più di così cosa deve fare uno? Più di così cosa deve fare uno? Mi pare da quello che adesso io sto leggendo che ci sia questo... Furlani. Furlani che non so chi sia. Pare che sia l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma sì. Che pare che lui abbia trattato lui il rinnovo di Leao. E c'è questa persona qua che potrebbe prendere il rinnovo di Leao. Allora, questa gente qua arriva dall'America senza sapere se il pallone è tondo, è quadro, è piccolo, è grande. Non sanno da dove sono girati. In più, è un fondo dove tentano solo decisamente di raccattare. Arriva a un certo punto, guadagnano e poi vendono. Questi devono capire che la storia del Milan l'ha fatta Paolo Maldini e poi a scendere tutti gli altri. Maldini però poi... Lascia stare la storia da calciatore. Da quando è arrivato al Milan ha fatto un lavoro stratosferico perché Donnarumma, non vuoi rimanere? Vai a casa, c'è problema. Che sì, non vuoi rimanere? Vai a casa. Ha messo delle basi. Ha vinto un campionato. È arrivato per il terzo anno consecutivo in Champions League. Ha valorizzato tanti ragazzi, dando fiducia a un allenatore dove non volevano dare fiducia all'allenatore. Ovviamente con un'altra proprietà. Questo qua, Cardinale, arriva, si fa fare solo le foto, fa le sceneggiate. Fa le Americanate. Mi ricorda? Pallotta della Roma. Arriva, fa il cinema, fa le sceneggiate. Maldini. Ma Maldini, questo Cardinale Furlani, gli devono baciare i piedi, per non dire altro. Dove Maldini cammina, gli devono andare dietro a dire grazie, 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 siamo nelle tue mani. Invece cosa fanno? Buttano benzina sul fuoco. Fanno un disastro? Perfetto. Io spero per Paolo che se lui non è felice, che possa fermarsi con Massara, li mandasse a cagare e poi arriva a un certo punto. Vediamo, perché poi questi devono ricordarsi. Devono fare calcio al Milan. Perché il Milan non è la San Martinese del mio amico Lele. Si devono ricordare che il Milan, dopo il Ramadite, è la squadra che ha vinto più di Coppa dei Campioni, è la storia del calcio. E a livello di status, fra le prime cinque al mondo, si ricordassero questi qua. Stanno giocando col fuoco? Perfetto. Spero che per Paolo si possa risolvere il problema. Ma se lui non è felice, è giusto che va e si è attaccato da cazzo questi, se la vedessero da solo. Mi sembra questo il problema. Gazzidis, che c'era prima, aveva dato pieni poteri a Maldini Massara e adesso, da quello che si legge, Sto Furlani vuole fare un po' tutto lui. Quindi non è un problema di budget, non è un problema, ma solo... No, ma anche quell'altro non voleva dare... Neanche quell'altro, eh. All'inizio, però poi quando è successo quel fatto, ti ricordi che voleva mandare via Pioli per prendere quella del Salismurgoli? E tutta gente che non c'entra niente. Io credo questo. Io credo che, giustamente, poi non so tecnicamente com'è nata, ma credo che non sia nemmeno se poi questa rottura è definitiva. Non so se sarà definitiva. Io penso sempre di no, perché io penso che Paolo Maldini e il Milan sono la stessa cosa, quindi non puoi dividere la stessa cosa. Però poi bisogna prendere atto eventualmente dei cambiamenti che ci sono, come diceva Bobo, sempre nel calcio, anche quando meno te l'aspetti. Io credo che, giustamente, una persona come Maldini, che è diventato un fuoriclasse per me anche come dirigente, credo abbia il diritto di avere dei crediti dimostrati sul campo, di averli, di riceverli, di meritarli, sul lavoro fatto nel rapporto, appunto, bilancio, ok? Valorizzazione del capitale e ottenimento del risultato sportivo. Io credo che, se tu metti insieme queste tre cose, io credo che il lavoro di Maldini equivale al lavoro del direttore sportivo più ricercato in questo momento, che è giunto lì. Maldini equivale a quello, eh? Perché loro hanno vinto lo Scudetto quest'anno, Maldini hanno vinto l'anno scorso. Il percorso è lo stesso, giocatori sconosciuti diventati forti, giocatori che non sembrava potessero stare a certi livelli che hanno dimostrato di starci e ha messo dietro, come ha fatto il Napoli quest'anno, l'anno scorso il Milan, ha messo dietro rose più forti. Ripeto, risanando il bilancio e valorizzando il capitale. Magnan, Leao, Tonali, immaginati che capitale ha il Milan adesso di giocatori, ok? Quindi, secondo me, Maldini vanta dei crediti che secondo me si è anche stancato che non gli vengano riconosciuti e ci mancherebbe anche biasimarlo per quello che ha fatto. Quindi, se poi dopo cambiano oppure vanno avanti su un filone che non è corretto, la scelta strategica e le direttive, anche a livello di disponibilità, io credo che la chiave è capire quali sono nei dettagli, se ci sono stati e sono stati affrontati, i vari elementi che hanno portato o porteranno eventualmente a una rottura. Però io credo che Maldini meriti comunque di più come margine operativo rispetto a quello che ha dato. Aggiungo, io aggiungo il comportamento di Maldini, io aggiungo in un paese dove c'è ancora qualche d'uno che comunica allontanando la gente dal calcio, e lo sentiamo tutte le sante volte che apre bocca, Maldini è un signore e avvicina la gente al calcio, Maldini, attenzione, quando dico avvicina, dicono solo i suoi tifosi, io dico tutti, cioè Maldini è fatto per stare nel calcio, aggiungo, è fatto per stare nel calcio ai massimi livelli, e lo rappresenta come status, modo di comunicare, modo di operare, modo di scegliere, e Maldini quattro anni fa non era così, quindi è altra cosa, io riporto parole di Maldini, prima e durante, eventualmente anche dopo, quello lo vedremo, però prima di tornare al Milan, e durante questo percorso al Milan, Maldini ha sempre detto, e lo ha dimostrato fino adesso con i fatti, io non mi vedo da nessuna parte se non al Milan, Maldini è stato dieci anni senza far parte di una società, ha aspettato il suo turno, e non è che in questi dieci anni abbia parlato troppo, è stato lì, buono, da Maldini, cioè, o vi ricordiamo quanti ex giocatori poi sono stati, hanno ricoperto degli incarichi, Maldini c'era uno che doveva farlo, era lui, dieci anni, zitto, in disparte, ok? E lo ha fatto alla grandissima. E quando è entrato cosa ha fatto? Ha cambiato il Milan un'altra volta, come l'ha fatto il giocatore, l'ha cambiato, l'ha cambiato senza possibilità di poterlo cambiare, lo ha fatto, la media del Milan allo stadio credo sia 70-71 mila, di che parliamo? Allora, è quelli che li porta, li porta Paolo Maldini, Maldini, perché di riflesso li porta poi Ibrahimovic, scelto da Maldini, più tutti quegli altri ragazzi che, insieme a Massara, Magneto, Hernande, insieme a Massara, ok, e gli altri uomini dello scouting, hanno condiviso un percorso che nessuno, così come nessuno lo pensava del Napoli, non si poteva pensare del Milan, quindi io, nel senso, sotto tortura sarò dalla parte di Maldini, assolutamente, sotto tortura. Detto questo, spero, spero e mi auguro anche che le persone che sono un po' più vicine a noi, possano, possano, in questi giorni, domani sappiamo tutto, Camel, non so se sai tutto, domani sappiamo tutto, se vogliamo, ok, perfetto, che ci sia la chiarezza, perché almeno noi verità la facciamo.